Il gruppo del Tribunale di Bari, Marco Galesi, ha condannato appena comprese tra i 9 anni e i 2 anni e 8 mesi per un totale di 54 anni di reclusione gli 11 imputati nel processo sulla guerra di mafia tra i clan di Cosimo, Rafraschieri, del quartiere Madonella di Bari, alleati dell'articolazione del San Paolo dell'Estrisciuglio e Parisi, Milella, Palermiti di Iapigia. Gli imputati rispondono a vario titolo di porto e detenzione di armi da sparo e di alcuni episodi di estorsione ai danni di commercianti con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare associazioni mafiose. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Stando alle indagini dei carabinieri, coordinate dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Fabio Buquicchio e Marco D'Agostino, gli Estrisciuglio sarebbero intervenuti in aiuto del clan di Cosimo nel conflitto in corso con i Parisi per il controllo dei traffici illeciti sul quartiere Madonella, culminato nei due agguati del 18 settembre 2018 quando fu ferito Andrea Fachechi e del 24 settembre dello stesso anno quando furono uccisi a Carbonara i fratelli Walter e Alessandro Rafraschieri. Ne sarebbe derivata una volontà di vendetta con una serie di riunioni criminali per organizzare commandi per l'imminente confronto armato con i rivali del quartiere Iapigia. Le indagini hanno documentato anche due estorsioni, una da 10.000 euro al titolare di una rivendita di pneumatici del quartiere Libertà e l'altra da 15.000 euro al proprietario di una rivendita di vini al quartiere Madonella. Tra i nomi di spicco della criminalità barese e tra i condannati ci sono Francesco Alessandro Rafraschieri e Cosimo Damiano Ladisa, Cristian Di Cosimo, Luca Lanave e Francesco Gismondo.